7 novembre 1867 nasce Marie Curie chimica e fisica di origine polacca nel 1903 è insignita del premio Nobel per la fisica assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel e nel 1911 del premio Nobel per la chimica per i suoi lavori sul radio muore nel 1934